Io devo dire anche la verità che un giocatore così all'inizio di quest'estate non me lo sei neanche sognato. Esordisce così Alfio Pelliccioni nel presentare il suo ultimo acquisto. Giuseppe Zampano, terzino di spinta classe 93, corteggiato in estate anche da squadre di serie B e appena arrivato a Cesena grazie soprattutto al rapporto privilegiato con Francesco Modesto, suo compagno di squadra ai tempi del Crotone. Zampano ha firmato un contratto di sei mesi con i bianconeri e ha avuto modo di sgranchirsi le gambe già domenica, quando è entrato in campo nel secondo tempo nella sciagurata sconfitta contro il Fano, anche se quando ormai i giochi erano fatti. Ovvio che non si può dimenticare una sconfitta di 4-0 in casa, soprattutto a Cesena, però secondo me bisogna ripartire, pensare comunque agli errori che abbiamo fatto e ripartire più forti di prima, perché se stai a pensare ogni volta all'errore tutta la settimana non esci fuori. Secondo me ci stanno i primi due o tre giorni, poi devi ripartire più carichi di prima. Ho visto i ragazzi, comunque anche noi abbiamo fame e abbiamo voglia di far bene già da domenica. Abbiamo, tra virgolette, cambiato pagina per essere più carichi domenica. In conferenza stampa Zampano ha parlato del suo passato nel Crotone, quando ha conquistato la Serie A, giocando da esterno di centrocampo nel 3-4-3 di Juric, ruolo che andrà a ricoprire anche a Cesena. Con Juric l'avevo fatto comunque bene, ho fatto anche tre gol, però mi piace anche terzino, diciamo che sono un terzino che piace più spinger, quindi diciamo che a quattro, magari centrocampo è un po' più, diciamo mi trovo un po' meglio, però anche terzino mi trovo bene.